Ciao a tutti e bentornati alla nostra partita di Football Manager 2018, bentornati alla nostra partita con gli Hamilton Wonders. Abbiamo vinto, seppur a grande fatica, la prima partita del girone di Champions Oceanica. Prima di andare a vedere, oggi mercoledì, andiamo a vedere come vanno i campionati in giro per il mondo. Ci aspetterà il PNG United, che ha perso la prima partita contro il Tupapa Marenga, e poi appunto il Tupapa Mareronga. Credo che giocheremo con, avrei voluto giocare con le riserve all'ultima partita, probabilmente giocheremo già con le riserve da questa, e terremo qualche titolare per l'ultima partita, perché francamente delle tre probabilmente il Tupapa Mareronga è la più forte. Vedremo cosa succederà con il Nadroga, se il Nadroga dovesse battere il Tupapa Mareronga, quindi trovarci tre punti, tre punti, noi a sei, francamente l'ultima giocheremo di nuovo con le riserve, e andrà bene così. Allora, andiamo intanto a vedere come vanno i campionati in giro per il mondo. Partiamo dall'Europa. Come al solito partiamo dall'Italia. Serie A team. Prima la Juve, che ha allungato sul Milan, dieci punti, dieci punti sul Milan, dieci punti sul Napoli, poco sotto la Roma, poi la Lazio. Dries Mertens è diventato il capocannoniere davanti a Dybala. Mertens che ha già 32 anni, quindi inizia ad invecchiare abbastanza, Iguain ne ha 32, anche lui. Dybala che dovrebbe 25-26. Perfetto. Cesnia è la miglior portata in violata. Sportier dalla Fiorentina, Donna Roma rimane al Milan. Milan. Il Milan è allenato da Mazzarri, sempre da Mazzarri. Il Napoli sempre da Marcelino. La Roma sempre da Di Francesco. Ok, perfetto. Da Lazio sempre di Simone Inzaghi. E l'Inter è di Brenterniter. Che cacchio. Dove hai giocato Brenterniter? Esci dall'annoverre, giocava nello Schalke. No, quando hai iniziato il gioco giocava nell'annoverre. Poi è passato all'Inter. Allora l'avevamo già visto, ma io non mi ricordavo. In Ligue 1, il Paris Saint-Germain ormai ha preso completamente il volo. Jardim domina la Ligue 1 senza nessun problema. In Bundes, il Bayern Monaco stia ripreso il primo posto sul Borussia Dortmund. Il Bayern Monaco di Roberto Mancini. Quindi direi che il Dortmund gioca boss ancora. In Premier League, il Chelsea di Conte domina ancora prima. In Premier League, il primo Alvaro Morata. Però, 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 però. Come era già quando abbiamo visto mercoledì scorso. Infine, in Liga, il Real di Allegri sta allungando su... Più o meno i punti sono sempre gli stessi. Sono attesi con Madrid e Barcellona. Simone Zazza e Capocannoniere. Complimenti a Simone Zazza. Qui tra l'altro non ci sono gli stemmi. Dovrò scaricare gli stemmi, credo proprio. Allora, mentre per quanto riguarda l'Europa. Dove per ora, a parte il Napoli l'anno scorso, i nostri non sono andati così bene. Non sono mai andati così bene le nostre squadre. Vediamo come va. Allora, in Champions League... Ci è giocata solo la prima fase. La Lazio sta battendo l'Arsenal. Tico Madrid, il Porto. Il Barcellona batte 2-1 il Napoli. È un peccato. Il Manchester United ne ha fatti 4 la Juve. Quindi direi che la Juve saluta. E il Milan 0-0 col Villareal. E vabbè, non è andata proprio tanto bene. In Europa League ne avevamo 3. È rimasto l'Inter che gioca contro Benfica. La Fiorentina che gioca con Red Bull Lipsia. E la Roma che gioca contro Siviglia. Quindi insomma, per ora è andata abbastanza bene. Il Siviglia che è di Gallardo. Mentre invece è Montella. Montella. Mi metti Montella, per favore. Vincenzo Montella è un allenatore. Non gioca da nessuna parte, però. L'ultima esperienza è stata alla Sampdora nel 2019. Ma credo sia durato poco. Va bene. Andiamo alla nostra partita, va. Che è decisamente più importante in questo momento. Continua. Il PNG United. Una facile vittoria. Dovrebbe essere abbastanza facile. Lavoreremo per portare a casa la vittoria. Condivido la mia fiducia. Vinceremo sicuramente questa partita. Saremo in una posizione fantastica. Sottenessimo il massimo dei punti. Un buon momento per giocare contro di loro. Ah, quindi teoricamente il Tupapa Mare Rong è più scarso. Premiore della riunione tattica pre-partita. Saltala. Continua. Vediamo nella formazione cosa cambiamo. Sicuramente. Posto in arrivo. Eria, già, se non è tanto in forma partita. Ah, condizione 87. Allora, sicuramente rimettiamo Muhammad al posto di Johnson. E Luke lo spostiamo di lì. Poi. Sono indeciso. Facciamo, diamo un turno di riposo da Isa. Mentre ributtiamo dentro Gondue. Partiamo con Tobin, magari davanti. E partiamo con un 4-3-3. Perché Van der Roeven, povero Cristo, dovrà andare bene a riposare un pelino. Rigiochiamo con Margret al posto di Webster. E Pignanker al posto di Shaw. Mettiamo Debenham. Che non so che cazzo di fine abbia fatto. Ah, Pratte. No, Pratte. Perdonami al posto di Van der Roeven. E gioca Debenham e facciamo riposare un pochettino. Tu Pratte di qua giochi meglio? No. Vedremo poi... No, Pratte giocava di qua però. Di lì giocavo Brian. A parte che poi tanto con la difesa a due, con il centrocampo a due è un'altra roba. Va bene. Proviamo a cambiare un pochettino formazione. Vediamo se giochiamo bene. Se no, Amen. Poi faremo giocare tanto Just e Riserva. Formazione. Conferma formazione. Facciamo riposare qualche giocatore. Perché altrimenti veramente non facciamo mai dei cambi. Spogliatoio. Ah, in bocca al lupo che sia una bella partita. È sempre difficile per la squadra più forte affrontare partite come questa. Più che altro perché abbiamo fatto tanti cambi. La cosa un po' mi preoccupa. Talau. John. Aiza. Ah, c'è un altro Aiza. Seltz. Seto. Seto. Con. Dai, che vinciamo questa partita. E siamo a posto. Debenham. Sperando che di là, tra l'altro, vinca il Tupapa Mareronga. Però non giocano in questo momento e giocano dopo. No, speriamo che non vinca il Tupapa Mareronga. Se no, ce la giochiamo tutta l'ultima partita. Allora, non infortunato. Questo mi sembra ottimo. Kengabo. John. 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 Nengabo. Possiamo ripartire. Con Gondue. Tra l'altro, magari mettiamo offensivo, va? Gondue. 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 C'è dentro Tobin. Ma infatti Gondue tira. Ma potreste anche provare a passarla, Tobin, eh? Lo so che è un po' scarso, però, insomma. Luke. Con. Nengabo. Seto. E che cazzo quando lo facciamo passare? Anche perché tu sei Luke. No, tu sei Luke, è vero. Kagup. Lungo per Nengabo. Nengabo. Bravo, Oliver, che blocca la palla. Su. Voi però in mente alla prossima, se dovessimo vincere questa, facciamo riposare sia Mohamed che Johnson. Così la difesa arriva pronta per il Tasman. Pratt. Debenham. Macciuca. Però dobbiamo vincere questa. Macciuca. Pratt. Debenham. Macciuca. Per Tobin. Largo per Moloni, che però non ci arriva, anche perché Tobin ha fatto un passaggio veramente della minchia. Ha fatto veramente un passaggio orribile, Tobin. Neanche i passaggi è capace di fare sto scarsone. Paccato che Giassi sia stanchissimo. Dai, ragazzi! Sì, dobbiamo fare qualcosa di decente. Margez. Mohamed. Largo per Gondue. Gondue potrebbe crossare. Lo face Tobin. Oh, ha fatto un tiro verso la porta. Ha fatto un tiro verso la porta. Pignaker. Pratt. Fuori. Guarda che non sei O'Brien, Pratt. ventiquattresimo, venticinquesimo. Carità, stiamo un po' prendendo le misure, ma per ora hanno giocato meglio loro, eh. Margez. Debenham. Macciuca. Moloni. Dentro per Tobin, che non ci arriva. Ancora Debenham. Tobin non fa un cazzo proprio di niente. Luque. Moloni. Debenham. Pratt. Macciuca. Dentro per Tobin. Fai qualcosa, santo cielo. Fai qualcosa. Dio mio. Pensate se devo far rigiocare Giast. Iaravai. Luque. Debenham. Moloni. Cross dentro di Moloni. Tobin. Debenham. Ancora. Pratt. Largo per Gondue. Macciuca. Tobin. Che cazzo se si mangia tutto. Mohamed. Debenham. E poi non perdiamo sti palloni. Mohamed ancora. Moloni. Cross dentro Moloni. Gondue. Tobin. Pratt. Fuori. Perché Tobin non ti sei girato il colpito? Che eri lì da solo? Tra l'altro loro in che condizioni sono esattamente? Mamma mia in che brutte condizioni che sono. Ma voi siete? Della Popono Guinea. Quindi credo che sia semplicemente un campionato che non ho mai... Mai giocato. Eh eh. Quello è il problema. Per questo sono così scarsi. A parte che forse non esiste neanche... Non ho neanche messo il campionato di Popono Guinea. Noi non giocano mai. E vabbè. Pazienza. Scarsi sono. Scarsi rimangono. Maciucca è un po' stanco, eh. Magari poi nei cambi passiamo di nuovo al 4-2... Pogliatoio. Stai giocando bene e il risultato arriverà. Poi tra un po' passiamo al 4-2-3-1. Buttando dentro Van der Roeven e Just. Luque. Debenham. Pratt. Maciucca. Diamo io ancora una possibilità di passare in vantaggio, va? Un minimo di chance di potersela giocare così. Anche se Maciucca è veramente stanco. John. Ngambao. Pignacca è libera. Kagup. Mohamed è libera. Ripartono, no? Kini. Kini. Hans. Non fanno niente loro. Non fanno nulla loro. Vabbè. Direi che ora... 4-2-3-1. Buttiamo dentro. Al posto di Maciucca. Van der Roeven. E Just al posto di Tobin. Per ora queste due modifiche. Maciucca. Debenham. Largo per Tobin. 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 Sì, vabbè, alle stelle. Ciao Tobin. Ciao, ne? Ho giocato bene, eh? Fuori dalle palle. Oddio, se questo è il nostro riserva di attacco. Chiaramente conveniva far giocare Gondua in attacco, probabilmente. Avremmo fatto più bella figura. Magari alla prossima vediamo così. Adesso magari lo facciamo riposare. Se segniamo, lo facciamo riposare e facciamo così. Gondue. Van der Roeven. Van der Roeven. Per Gondue che la ributta dentro. De Benham. Ribatti e ribatti. Mamad non ci arriva. Seto. Tiene palla. Magari rubiamogliela a Seto. Tu chi sei? Margez. Rubiamogli sta palla? Con. Pomat. Margez. Rubagli sta palla. Rubagli sta palla. Hans. Kini. Boh. 52. 53%. Sono morti. Vogliamo attaccarli. Vogliamo attaccarli. Devo mettere anche Brian dentro. Ah mi tarrei. L'ultimo attacco. Cazzo cosa mi stava succedendo. Ah no ma non era un'azione. Non era un'azione. Stavo solo vedendo perché stavo vedendo le tattiche. Oh dobbiamo buttare anche Brian mi sa dentro. O Aisa. Buttiamo Aisa al posto di Moloni va. Vada per Aisa. De Benham. Che ti fai a Moni? Muhammad. Dentro per Just. Ci pensa Yara vai. Perché siamo tornati io? Controllo. Ah perché siamo passati 4-2-3-1. Tutto per tutto. Spingiamo pure va. Muhammad. Deberam. Debenam. Van der Öven. Van der Öven. Debenam. Gondwe. Non perdiamo questi palloni. Che poi Van der Öven è già monito. Sì. Debenam è già monito. Margez. Gondwe. Gondwe. Ricrossa dentro. Just. Il portiere la toglie. Cacchio di. Loro non hanno più. Hanno il difensore a 48. Hanno il giocatore al 48%. Noi non riusciamo a segnare. È incredibile. Margez. Van der Öven. Margez. Cross dentro. Aisa. Palo. Pure il palo ci si mette. Pure il palo ci si mette. Ma che sfiga. Vogliamo farlo sto gol. Luce. Gondwe. Debenam. Tira. Santo cielo. Sparala verso la porta. Qualcosa ne viene fuori. Adesso è un assedio. Van der Öven. Per Debenam che non ci arriva però. Perché Van der Öven. Inoltre la passa da sbagliato il passaggio. Fomatte. Fomatte. Rubiamogli sto pallone. Non ne hanno più. Stanno veramente probabilmente difendendo il pari loro. Oliver. A parte che loro se difendono il pari non gli serva niente. Perché sono fuori se difendono il pari. Hans. Talau. Van der Öven prova a rubare palla. Non ci arriva. Kagup. Il portiere ne ha ancora. Ed è lui che gli sta tenendo in partita. Anche se proprio tutte le stazioni non le stiamo facendo. Aisa. Cross dentro. Van der Öven. Parato dal portiere. Undici tiri. Ma solo uno in porta. Probabilmente questo peraltro di Van der Öven. Ma si prende. Perché sono anche due pali eh. Due legni. Però. Vogliamo tirare. Vogliamo tirare. Gondue. Punizione. Alta. Non si tirano le punizioni. Io continuo a dirgli di tirare le punizioni di seconda. E loro continuano a tirare le punizioni di prima. Hanno deciso di fare il cavolo che vogliono. Van der Öven. Lungo per Just. E però perde palla malamente. Nengabo. Pratt e ruba spallone. Margez. Largo per Gondue. La butta dentro. Just. Goal. Oh. Finalmente. All'ottantottesimo. Ci pensa Just. Oh. Santo cielo. Margez. Gondue. 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 Cross dentro. E Just la butta dentro. Oh. Ci è voluto l'ottantottesimo eh. Per risolverla. Van der Öven. Van der Öven. C'è Just davanti. Stanno arrivando in tre dentro l'area. Perché tiri? Ce n'erano due dentro l'area. A cui poter passare. Ora hanno finito i cambi ma hanno giocatori che non stanno più camminando. Stanno penso camminando. Se non sono fermi sul pavimento a respirare. Dai però. Margez. Van der Öven. Debenham. Perdiamo il pallone così. Nengabo. Sieto. Sieto. Pomat. Sieto. Fuori. Va bene così. Non importa. Un tiro dalla bandierina. L'ottantassettismo. Non è mai piacevole. Bravo Oliver che la ti attieni. Stiamo patendo veramente troppo eh. Sarà che facciamo tanti cambi alla formazione. Però cacchiolina. Debenham non ne ha più. Pensare che la prossima gliel'avrei fatta giocare molto volentieri. Pratt. Cross dentro. Debenham di testa. Occasione sprecata. Calcio d'angolo. Gondue. Van der Öven. Aiza. Fuori. Io spero solo che la prossima però non la vinca il Tupapa Amare Ronga perché io sarei ben contento di far riposare tutti i miei giocatori. Tanto portiamo a canteremo noi a casa questa va. Just la mette a terra. Margez. Margez. Largo per Debenham. Margez. Gondue. Gondue dentro. Taiku. Pignaker. P-P-Pignaker. Vabbè si chiami come Warren non è importante. Basta che la chiudiamo ragazzi questa partita. Basta. Just. Prova a saltare l'uomo. Lo fermano. Margez. Just la prossima però non la gioca eh. Perché mi serve troppo per il Tasman. Mi serve troppo per il Tasman. Nengabo. Se prendiamo il pari la deve giocare di sicuro invece. Benissimo. Van der Öven. Debenham. John. Luque. Kagup. Fuori. Piuttosto mettiamo Gondue davanti. E però si è giocato tutta sta partita. Fai giocare anche tutta la prossima. Direi che per il Tasman non... Forse abbiamo una settimana in realtà poi prima del Tasman. Non mi ricordo. Just. Just. Marge. Ma no. Che passaggio del cavolo che ha fatto Just. Basta è. Seto. Mohamed ruba palla. Bravissimo. Finisce qua. No. Fuori gioco. Fuori gioco. Battono ma credo che finisca qui. Hans. Finisce. 1-0. Oh. Bah. 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 Ah. Bella vittoria ragazzi. Ben fatto. Bom. Dovamo vincerla. Abbiamo vinta. Giocheremo un bel calcio. Mi ha avuto nessuna paura. Saprevo che alla fine avremo vittà. Un ottimo viatico per la fallificazione. Un'ottima base di partenza per cercare di ottenere quello che vogliamo. Vediamo come va tra Tupapa Mareronga e Nadroga. Tupapa Mareronga e Nadroga. Ha vinto Nadroga 2-0. Questo è fantastico. Perché ci permette con un bellissimo e comodissimo pari con il Tupapa Mareronga l'ultima partita di andare tranquillamente a vincere il nostro girone. Va bene. Direi che con questo è tutto. Ci vediamo domani. Ultima partita del girone. Andremo a giocarcela contro il Tupapa Mareronga. Una nostra vecchia conoscenza. Però poi c'è una settimana per il Tasman. E allora chi se ne frega che giochino i titolari. Tanto poi ci sarà una settimana prima del Tasman e potremo giocarcela. A domani. Ciao ciao.